Nome? Enes Elisa Cognome? Afman Sabelli È la tua prima intervista? Sì Sì Ruolo? Esterno sinistro o mezzala? Tersino destro Qual è la tua qualità migliore? Giocare da squadro Arrabbiarmi Numero di maglia? Dieci Tre Idolo? Milito Di Bala Squadra del cuore? Inter Ioventus Meglio giocare con Del Piero o con Totti? Sono tutti e due grandi giocatori, a me mi piacerebbe con tutti i due Del Piero Ti trovi bene all'Endas Monti? Certo, è una bella squadra e ci vengono tanti bravi ragazzi e mi piace per quello Moltissimo Come è iniziata la passione per il calcio? Quando mio padre mi regalava il primo corno da calcio a quattro anni iniziai a giocare così a cavolo Me? Tre, quattro anni fa, giocando con mio cugino Hai mai pianto per una partita di calcio? Sì Quando l'abbiamo persa l'ultimo Io no Qual è il momento in cui hai sentito più tensione in campo? Quando due miei compagni litigano Contro il Ravenna Meglio vincere giocando male o perdere giocando bene? Perdere giocando bene Beh certo, perdere giocando bene Tua mamma cosa ti ha detto quando hai iniziato a giocare a calcio? Era felice Cioè era un po' inquieta Non sapeva come andasse a finire Perché ci ho messo tanto tempo a convincerla Lo segui calcio femminile? No Dove ti piacerebbe arrivare a giocare? Nell'Italia Hai mai fatto gol? Quando ho giocato con San Zaccaria Il tuo amoroso cosa dice? Che so scarsa Uno slogan per tutte le altre ragazze che vorrebbero iniziare a giocare? Non dare retta agli altri Perché devi seguire il tuo istinto E se ti piace giocare a calcio Bene anche È bellissimo giocare a calcio Secondo me Praticamente mio padre non voleva che io giocassi a calcio Si è convinto di sta cosa Neanche un anno fa Cioè io gioco da due anni e mezzo circa Cioè secondo lui io dovevo continuare a suonare il flotto attraverso Non veniva neanche a guardarmi le partite Però ora è bravo Cioè è troppo Quindi hai cambiato? Si Che cosa l'ha fatto cambiare? Mia mamma No Ha visto che Cioè ci teniamo davvero Dai un voto da 1 a 10 al tuo compagno su questi campi Calcio o della palla? 7 8 Più Passaggio? 8 9 Agonismo? 10 Lei è molta costruzione Grazie a tutti